A Tbilisi, in Georgia, si è consumato un crimine che ha sconvolto l'opinione pubblica. Chesaria Abramizze, una nota influencer transgender di 37 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento, accoltellata più volte. La polizia è arrestata il suo fidanzato di 26 anni, accusato di omicidio aggravato da motivazioni di genere e particolare crudeltà. L'uomo è stato bloccato all'aeroporto di Kutaisi mentre tentava di lasciare il paese. Chesaria Abramizze era una figura di spicco nella comunità LGBTQ giorgiana, essendo stata la prima a dichiararsi pubblicamente transgender nel paese. Nel 2014 aveva annunciato il suo cambio di sesso e 4 anni dopo aveva partecipato al concorso di bellezza Miss Transstar International in Spagna. Il suo tragico omicidio è avvenuto poco dopo l'approvazione di una controversa legge da parte del Parlamento giorgiano. La legge, sotto il nome di Valori della famiglia e tutela dei minori, vieta la propaganda delle relazioni omosessuali, inasprisce le pene per i matrimoni tra persone dello stesso sesso e limita le operazioni di cambio di sesso.